ecco simona in una situazione così complessa oggi per i ragazzi ecco l'abbiamo visto prima in sardegna ad esempio quest'estate nel discoteca nei pub nei bar la sera adesso si parla di chiudere la sera dopo le undici e mezza i locali ok ecco forse avrebbero dovuto arrivare proprio da questi personaggi messaggi diversi ok che cosa ne pensi tu ma io penso che lei abbia fatto tantissimo innanzitutto è stata la prima a fare una raccolta fondi per aprire un reparto per creare un reparto di terapia intensiva quando ricordiamo a marzo non sapevamo il nemico che stavamo andando a combattere io mi ricordo bene di quei momenti perché c'è milano era nell'occhio del ciclone e era era agghiacciante vedere milano tutta vuota eccetera eccetera per cui insomma ha fatto molto anche per questo ultimamente noi stiamo parlando di marzo aprile ok durante il covid durante il lockdown ma ultimamente non abbiamo sentita parlare di questo o sbaglio ma no ha fatto ha detto tante cose cioè ultimamente e devo dire che ha centrato l'attenzione più sulla sulla sua famiglia questa ragazza che viene dalla provincia lombarda che faceva della sua passione la fotografia dopo di vuole lanciare questo messaggio per se vuoi puoi ovviamente se vuoi puoi e quindi è partita è andata in america è diventata la l'influencer ha creato lei questo lavoro che non c'era ha creato una azienda un CEO di quattro aziende che fanno lavorare 80 persone e insieme al marito adesso freano anche danno anche dei messaggi positivi per carità di dio allora sentiamo che cosa ne pensate Samantha è indiscutibile indiscutibile la capacità che ha avuto chiara ferrani nel costruire positivo o no come esempio per lei ha ragione simona è positiva ecco perché è così importante che lei usasse social anche in questo momento di difficoltà che indirizzasse giovani a usare le mascherine al distanziamento sociale e quant'altro perché lei viene seguita da veramente tante persone tu sei d'accordo con loro e col col loro nel senso no io e a parte che io quei social cose c'è un problema non mi piacciono a me quando mi dicono compra sta maglietta io quando ero ragazzino tutti avevano la stessa maglietta e ne vogliavo un'altra perché non mi va di essere omologato ma questo è un fatto mio tanto di cappello per quello che ha fatto sta ragazza per carità però come usa i social per il commercio perché quello è e qui adesso lei che comunque è così seguita dovrebbe usarli anche per altre cose cioè mettere tutti i giorni un post dove mettetevi la mascherina mi piacerebbe molto l'apprezzerei moltissimo amantini ciao buongiorno leonora buongiorno a tutti allora io sono completamente d'accordo con quello che appena detto corrado anche io apprezzerei questo comportamento da parte di un influencer così seguita sui social e un mondo legato ai giovani però non si può neanche imputare il caso contrario nel senso ognuno è libero di utilizzare in social network e i propri mezzi di informazione come meglio crede io credo che chiara ferragni come ha detto simona sia stata un ottimo esempio di di crescita positiva nel mondo del lavoro se poi utilizza o meno i suoi social per parlare di covid credo che non sia imputabile però non si può recriminare insomma ognuno è libero di farlo come meglio crede sicuramente è una che rispetto a tanti altri influencer si è esposta e ha fatto concretamente qualcosa in tempi di lockdown forse io credo che il messaggio di covid e di parlare di covid e di precauzioni perché deve essere appunto una coscienza collettiva è una responsabilità di tutti debba venire all'interno delle famiglie delle istituzioni ecco come la scuola è importante ascoltare i virologi questo credo non la ferragni cioè ascoltiamo i virologi non la ferragni che cosa c'entra ma ci mancherebbe altro non è la domanda infatti non era quella era la domanda era questa se alcuni personaggi così tanto seguiti ed amati proprio perché sono seguiti ed amati possono comunque dare dei messaggi quotidiani diversi proprio per aiutare di più i ragazzi simona vuole intervenire simona perché così poi lancio questa clip che ci interessa molto vedere proprio allora dimmi dimmi comunque lei il suo impegno sociale per esempio quest'estate è stato quello di a di essere invitate di andare per esempio agli uffizi per esempio nella terra di puglia e comunque nei suoi 21 milioni di follower sicuramente ha creato dell'attenzione su queste cose no ha creato comunque un interesse perché gli uffizi dopo che che se ne dica storgere il naso hanno aumentato l'entrata del 18 per cento comunque a un tipo di pubblico e credo che lei stia mandando tanti messaggi positivi forse l'unico adesso è questo della mascherina però ha ragione anche moreno quando dice che è la famiglia è se stessi perché poi ognuno deve avere un'educazione civica che non si fa più nelle scuole ma vorrei far di essere per se stesso darsi delle regole cioè la mascherina va messa sempre e quindi al di là delle famiglie se tu non lo fai è un problema tuo e soggettivo allora prima è andata un'immagine scusatemi credo da vanity fair di un'immagine quella ferragni vestita da madonna su questa cosa qua io siccome c'è il codacons che ha fatto una denuncia fra l'altro codacons è un'associazione di consumatori molto importante per la quale io grandissima stima su quell'argomento vorrei evitare di entrare perché poi cercheremo di capire come andrà a finire il codacons dice che è un'immagine blasfema e chiaramente poi cercheremo di capire come andrà a finire questa vicenda una vicenda sulla quale chiaramente proprio perché non abbiamo tutte e due le parti né la ferragni né il codacons in diretta non vorrei intervenire dunque idolo dicevamo prima per tante ragazze la ferragni si racconta in televisione da simona ventura guardate signore e signori chiara ferragni tutti conoscono chiara ferragni avevo qualcosa un istinto mi diceva vedrai che troverai la tua strada troverai il tuo talento sono delle pagine pubblicitarie di venti il mezzo è il suo talento la felicità è costituita dai legami che si hanno nella vita lei manda un messaggio e se vuoi puoi farlo anche tu una serata dedicata chiara ferragni si racconta questa sera alle 21 e 20 un poster e a seguire fenomeno ferragni un'intervista esclusiva di simona ventura rai 2 ecco simona l'appuntamento allora è questa sera giusto questa sera le 21 e 20 prima col film e poi questa bella chiacchierata con chiara che si è aperta moltissimo a noi abc abbiamo trattato tutti gli argomenti quindi sarà molto bello grazie grazie alla nostra simona ventura ciao ti aspetto grazie simona ti aspetto lo sai perché ti aspetto lo sai grazie